Sono Luca, ho 30 anni e nella vita sono un nuotatore professionista. Sono ad Abu Dhabi in uno dei miei innumerevoli viaggi, sia come sportivo che come passione di vita o quella dei viaggi. È un piacere quello che è conoscere soprattutto anche nuove culture e cercare di entrare nel loro stile di vita, nella loro mentalità. Sono situazioni in cui mi piace proprio godermi il momento senza stare troppo lì e mai a pensare di immortalarlo o di condividerlo con altre persone. Il piacere più grande che ho dell'acqua, oltre alle gare, è quello di ritrovarmi da solo, sott'acqua, immerso in quello che è un mondo completamente diverso. E trovo che ci sia una pace che difficilmente riesci a trovare in altre parti del mondo. Adesso, Luca, ti chiedo di prendere una foto che è legata ad un piacere che non hai mai trovato. E c'è da cercare allora, perché... Ok, penso di averla trovata. Può essere questa? La appendiamo? E adesso, vieni con me. Ti devo seguire? Ok. Ciao. Ciao. Piacere, sono Luigi e faccio lo chef. Piacere mio. Io sono Luca. Allora, ti mostrerò un dolce da fare oggi che si chiama biscotto morbido all'olio d'oliva, con una melaca al cioccolato fondente, marron glacé, farina di nocciole e yogurt. Ok, perfetto. Non ho idea di come fare, quindi mi affido completamente alle tue mani. Comunque devo dire che anche se sto facendo la più basilare delle cose, sto, diciamo, esaudendo uno dei miei desideri più segreti, ovvero quello di imparare a fare qualcosa di concreto in cucina, che non sia la classica pasta asciutta o la classica carbonara. Ciao, ciao.